Primo giorno di saldi sconti nei negozi dal 50 al 70%. Che cosa hanno deciso di acquistare veneziani e mestrini? Andiamolo a scoprire. Per il momento calze. Un giubbotto. Ha intenzione di fare altri acquisti? Ha già docchiato qualcos'altro? Ha docchiato no, vediamo adesso se troviamo qualcos'altro. Un maglione, un maglione, un maglione. Abbiamo già tanto, per questo è inutile aumentare il numero, se è una voglia va bene a pagarla, ma troppo perché è conveniente e non fa per me. La filosofia è prevenire il bisogno, quindi non comprare qualcosa che serve ma qualcosa che potrebbe servire. I cittadini sembrano dunque molto oculati nei loro acquisti, poche cose magari già adocchiate in precedenza e di cui si ha bisogno. Ma per avere un quadro più preciso sull'andamento di queste prime giornate bisognerà attendere la fine del weekend.